Ciao ragazzi, 365 giorni con Vale. Ecco qua un altro bellissimo paio di orecchini. Vedete? La pietra più piccola, azzurra, poi la pietra più grande, azzurra, all'interno del cerchio. Vedete? Molto molto carino. E questo fa parte anche lui di uno di quelli più vecchi. E con questo è tutto. Ciao! Ciao!